E' durato appena 27 minuti l'atteso derby tra l'Aquila e Teramo, quello che doveva essere uno spettacolo di visibilità per le due squadre davanti alla diretta nazionale sarà invece un bel grattacapo per società e staff tecnico che dovranno riniziare la partita da capo e a data da destinarsi. Una data non semplice da trovare subito, la prossima settimana il girone d'andata si chiuderà sabato 22 dicembre anche se l'Aquila ha chiesto di giocare la domenica e fissare un infrasettimanale per il 19 potrebbe essere un problema. Dopotutto se la Lega programma un posticipo serrale all'Aquila il 10 dicembre vuol dire un po' cercare delle grane ed il meteo ha fatto la sua parte tirando anche un brutto scherzetto perché per tutta la giornata l'Aquila ha piovuto e la partita è regolarmente iniziata. Poi è arrivata la neve sempre più fitta con il passare dei minuti, campo imbiancato e il direttore di gara Rossi Pordenone che dopo 27 minuti di battaglia su un campo al limite decreta lo stop. Intanto per ripristinare la visibilità delle linee del campo dopo l'intervento degli inservienti l'arbitro ha chiesto l'utilizzo di calcia rossa per ridisegnarle, operazione che però avrebbe richiesto troppo tempo. Ed allora dopo essere tornato in campo con i due capitani senza fare la prova del rimbalzo del pallone e constatato che tra fango e ghiaccio si metteva a rischio l'incolumità dei calciatori, Ross ha definitivamente sospeso il match e curiosamente ha smesso anche di nevicare. Nella mezz'ora scarsa disputata si era visto un teramo aggressivo e ordinato con Patierno in attacco, Caidi e Novenici al posto degli squalificati Coletti e Speranza. Nell'Aquila come previsto Gizzi al posto dell'appiedato Rapisarda, padroni di casa sorpresi dall'aggressività terramana anche se poi gli spunti di cronaca migliori sono giunti proprio sul fronte aquilano. All'undicesimo la pala gol migliore quando Ciotola fa filtrare un pallone per Improta che è pressato sbaglia davanti a Serraiocco. Poi quando il campo comincia ad essere un problema, minuto 17, lo stesso Ciotola approfitta di un liscio di Ferrani, punta Chauvet ma trova l'opposizione in corner di Serraiocco. Quindi tanta battaglia finché Ross dice basta, l'Aquila e Teramo dovranno rivedersi e per domenica quando affronteranno rispettivamente Poggi, Ponzi e Foligno riavranno le stesse squalifiche da fronteggiare. Puntata numero 15, buonasera e bentrovati a Teramo Channel, qui non nevica, fa abbastanza caldo, si sta bene quindi andremo regolarmente in onda e questa puntata non sarà ripetuta. Buonasera Caterina. Ciao Andrea, effettivamente noi siamo sempre qui a discarto purtroppo invece della partita di ieri che è stata rinviata, data ancora da definirsi. Quindi noi vi dicevo siamo sempre qui per darvi tutte le news, per dirvi di tutte le curiosità del Teramo Calcio ma non solo. Tante novità. Tante novità. Anche che riguardano i tifosi quindi state con noi. Esatto, per questo vi ricordo la possibilità di interagire con questa trasmissione inviando un sms al numero di cellulare 392-623-7060. Dicevo per poter interagire con noi ma soprattutto con i nostri ospiti come sempre anche loro immancabili. Ve li vado subito a svelare partendo ovviamente come tutti i martedì se non da lui, dal nostro mister, dalla nostra voce tecnica Antonio Luzzi. No, ma lui no. Lui è l'epronto. Eccolo, ecco, ecco, penso ti fossi trasformato. Dicevamo Andrea, si tante novità. Non si è invernato il mister, è vivo e beccido. È arrivato come una tempesta però non è invernato. Dicevamo tante novità in merito ad un progetto di cui parleremo tra poco, grazie al responsabile dell'area marketing che è qui con noi del Teramo Calcio, Alessio Peroni. Buonasera. Ciao Alessio e buonasera. Ben trovato, ben ritrovato. Due protagonisti del Teramo Calcio, con noi il difensore Mattia De Fabritis e il centrocampista Luca Righini. Buonasera a tutti. Buonasera, entrambi ieri a quest'ora erano... Loro erano ibernati. Sì, ibernati, ora stanno a calduccio anche loro. Vabbè, ci fermiamo per qualche istante. Sì, vi aspettiamo qui tra pochissimo. Ciao a tutti. Buonasera, quindicesimo atto stagionale di Teramo Channel, Caterina vuoi subito sentire i nostri ospiti? Perché francamente io ieri sera ho avuto delle sensazioni positive in merito a quel po' di gara che abbiamo visto, infatti al di là delle avverse condizioni climatiche e del purtroppo non buonissimo terreno, insomma campo di gioco ho visto un buon Teramo e infatti volevo chiedere immediatamente ai nostri ragazzi che sensazione avevate ieri sera prima che la gara venisse sospesa? Mattia? Vabbè, sicuramente noi la partita la stavamo facendo come l'avevamo preparata, cioè nel modo giusto, sotto l'aspetto tattico e sotto l'aspetto dell'agonismo perché siamo entrati in campo molto decisi, però per quello che era il campo abbiamo fatto il massimo noi. Luca? Sì, come diceva Mattia la sensazione dal campo era positiva, noi nonostante il campo cercavamo di fare le cose che sapevamo e di giocare la palla e appunto dal campo noi sinceramente preferivamo continuarla perché ce la stavamo giocando bene, agguerriti e secondo me potevamo strappare qualche punto. Ecco, al di là invece della buona prestazione, ma è stato giusto secondo te sospendere definitivamente la partita? Oggi ho visto anche le immagini di Campobasso che lì... Noi anche abbiamo, poi San Marco riesce a farci vedere qualche immagine perché lì nevicava e il campo era totalmente imbiancato e si è giocato per tutti i 90 minuti con vittoria del Campobasso che fa gioco anche al terro perché la versa resta a 14 punti in zona play-out, 5 punti di distanza. Vedremo anche il presidente del Campobasso, Ferruccio Capone, anche lui aiutare gli inservienti mentre spala il campo, dicevi Luca? Sì esatto, quindi secondo me si poteva giocare la partita. Ecco il presidente Capone, anche perché poi ha smesso di nevicare, proprio dopo la decisione definitiva è smesso totalmente di nevicare. Mattia tu sei rimasto, non dico contento, sei d'accordo se con te è giusto, è stato giusto sospendere la partita o c'era modo di continuare? Stessa domanda anche per te. Secondo me l'arbitro ha reputato giusto sospendere la partita perché in verità le linee si faceva fatica a vederle nel gioco. Era difficile fischiare una punizione, se era dubbia o in aria o fuori aria era difficile. Concedere un fado laterale. Era molto difficile, secondo me ha fatto bene a rinviare la partita. Quindi Teramo si è ben adeguato alla situazione e stava interpretando bene la partita, però probabilmente è stato giusto rinviare. A sospendere, Tonino alla luce di queste immagini e di quelle che abbiamo visto anche di L'Aquila a Teramo, il tuo giudizio anche dall'alto della tua esperienza? A Cabombasso mi sembra che non nevicava. Beh no, guarda, guarda. Sì, ma non era una neve intensa come quella di Eco Bici di Risera. Però all'Aquila poi ieri è asemersa. Però all'Aquila a partita sono spesa al 27, 28 mi sembra. Ci mancava ancora un quarto d'ora per fare il primo tempo. Poteva avere tutto il tempo, 15 minuti, di fare le linee. Poi mi sembra strano che una società come Aguila, che diciamo ogni anno subisce questo fattore campo così di neve, perché ci nevega sempre, che non era fornita di cosa rossa, non si chiama la polva rossa. La calcia rossa c'era, la stavamo anche mettendo. Ci voleva parecchio tempo. No, io dicevo nel frattempo mancava la 27, un quarto d'ora diciamo alla fine del primo tempo. Poi c'era il tempo di sospensione del primo e secondo tempo. Potevano benissimo mettere la calcia. Potevano fare ancora 15 minuti. Quando dalle voci si diceva che ci volesse un'oretta per fare tutte le linee del campo. Vabbè, allora, certo, la partita sicuramente avrebbe avvantaggiato a noi, perché, vogliamoci chiaro, il campo così a noi ci avvantaggiava. Non lo so, forse per l'ingolumità dei giocatori l'arbitro pensava che ghiacciasse dopo il campo, però certo avvantaggiava a noi. Allora, il terreno asciutto sicuramente... All'inizio non si poteva immaginare che le cose potessero cambiare così repentinamente. Sicuramente ci avrebbe dato fastidio questa squadra perché è molto forte. Sì, davanti c'è un tridente d'attacco molto veloce. Poi sono agili e forse sono stati condizionati da quel terreno morbido della neve. La velocità loro non lo potevano esprimere, i ciotoli e gli altri. Certo, non avvantaggia il campo così le persone agili. Mattia, stavi dicendo? All'inizio, dalle immagini, sembrava un ottimo campo, però in realtà dentro era bruttissimo. Anche al calcio d'inizio? Sì, sì. Anche prima che si imbiancasse? Sì, sì, dalle immagini non si vede bene, però... Cosa hai constatato? Cioè non riuscivi a correre, facevi fatica perché si era creata anche quella patina di ghiaccio sull'erba che ti faceva scivolare su ogni spinta, su ogni... Quindi non era facile mantenere l'equilibrio e si rischiava anche di farsi... A campo abbasso la calce rossa l'hanno messa? No, lì hanno scoperto le linee. E hanno fatto un altro tipo di pallone. Ma era stato fatto, tant'è che poi quando rossa è tornato in campo, è tornato quando il campo era stato liberato dalla neve in prossimità delle linee. Però lui ha detto che serviva la calce rossa, eccetera, eccetera, insomma. E a campo abbasso hanno usato un pallone adatto, ovviamente, era arancio anziché bianco. Quello sì, quello sì. Comunque, Alessio, tu cosa pensi, prima di entrare un po' nel tuo campo, sulla partita di ieri, giusto, rinviarla? Io penso che poi, magari, se si fosse giocato fino alla fine, magari un pareggio lo potevo anche portare a casa, però mi sembra comunque giusto, poi se i calciatori stessi sono i primi a dire che effettivamente la decisione dell'Arpide è stata quella più giusta, insomma, è giusto. Ma anch'io, insomma, sono dello stesso parere. Voi l'America è di spolificare. Sì. Già. Allora, sentiamo il suo contributo filmato, Caterina, poi riparliamo anche di questo. Abbiamo raggiunto con i nostri microfoni nel, diciamo, post partita, mister Cappellacci. Penso che quella finiva 0-0 alla partita. No? Potevamo venire pure. Questa è la sorte che è capitata, tra l'altro anche prevedibile, perché fare una partita alle 9.45 il 10 dicembre all'Aquila ci vuole da studiarci e quindi, insomma, dai, questo è quanto è successo stasera. Mister, la decisione è giusta, secondo te, di sospendere la partita o c'erano le condizioni per proseguire? In effetti si faceva fatica a giocare, però credo che la partita si sia sospesa perché l'arbitro non vedeva le linee e chiaramente poi quando fermi la partita, in queste condizioni ambientali e poi se fai passare troppo tempo da quando la fermi a quando la riprendi, onestamente è giusto fermarla perché poi ci sono anche degli esseri umani che fanno i calciatori e che si trovano in delle condizioni difficilissime poi per riprendere la partita e quindi tutto sommato penso che la decisione sia giusta. In quei 27 minuti hai visto quello che desideravi del Teramo? Se è possibile dare una valutazione tecnica o quasi di questi minuti? Ma noi abbiamo pensato di fare un certo tipo di partita e l'abbiamo fatta bene perché siamo stati abbastanza aggressivi sui loro portatori palla e comunque quando abbiamo recuperato palla abbiamo cercato di giocarla. Questo è quello che si chiede quasi sempre alla squadra quindi in fondo c'è da essere soddisfatti di questa mezz'ora che non serve a nulla però. Mattia si è parlato della data per fissare questo recupero, si rigiocherà da capo, la conseguenza sarà che ad esempio gli squalificati che c'erano ieri saranno squalificati anche per la partita di domenica, quindi Coletti e Speranza salteranno Teramo e Foligno. Sulla data avete qualche idea, avete sentito qualcosa, qualche rumor? Che io sappia ancora viene deciso niente. Però il problema ora è questo, è che fissare un recupero in tempi brevi è difficile perché poi la settimana prossima il Teramo giocherà a Staderno il 22 che è sabato, quindi giocare di mercoledì e poi sabato è difficile, poi c'è la sosta e quindi qui si rischia di recuperare la partita molto tardi. Secondo me verrà a slittare a gennaio. Speriamo non in prima serata almeno. No, no, speriamo di no, speriamo che non facciano lo stesso errore. Ecco mister, come il fatto che ci sia la squalifica di Coletti e Speranza che viene traslata a Teramo e Foligno, che conseguenze provoca secondo te? Diciamo che a centrocampo siamo sistemati bene lo stesso. Anche se ieri poi i Caini, i nomini ci stavano. Però certo, in Coletti in più, incontrato una squadra come l'Aquila ieri ci faceva comodo. Perché? Perché un incontrista davanti alla difesa sicuramente è fatto da filtro ancora di più. Però adesso non stiamo a piangere, la partita è andata così. Però quello che mi sembra strano è che l'Aquila non è che sta in Africa. Si sa che ci nevica sempre il tempo, infatti loro sono condizionati ogni anno da questo fattore della temperatura, delle nevicate e del campo pessimo, dai tempi di Ammazza l'Orso. Quindi io che ricordo da ragazza andavo a vedere le partite all'Aquila quando era l'inverno era una cosa tragica, ogni anno era così. Quindi loro dovevano premonirsi di tutto per attrezzarsi sapendo che andavano incontro a queste temperature. C'è stato un po' di negligenza, non lo so se è stata voluta o no, perché loro sicuramente preferiscono giocare con un campo. Ma dato che c'era la diretta, che hanno fatto tante iniziative per incentivare l'opposto di pubblico, penso che si possa passativamente escludere. Però certo la partita del Betto Bene Cappellaccio l'aveva improntata bene, stavamo giocando sulle ripartenze, prestavamo bene, stavamo mettendo in difficoltà fino al 27. Poi loro hanno avuto due palle gol, mi sembra una palla gol, l'hanno sciupata, però noi siamo usciti molto determinati, con molta voglia di fare bene e quindi anche le assenze non è che si sentivano tanto. Sono d'accordo, perché ieri i cagli dei nomini ci stavano facendo molto bene. Luca, le tue sensazioni quando siete arrivati all'Aquila ieri, cosa avete percepito? Qui ce la facciamo a giocare oppure quasi quasi si rinvia, magari sta per arrivare la neve, fa freddo? Che sensazioni avete avuto subito? No, noi avevamo preparato bene la gara per giocarla, comunque la volevamo giocare. Il freddo comunque c'era anche per loro, quindi non sarebbe stato un problema. Per come si era messa la partita, loro se vogliamo hanno avuto l'occasione più importante, però secondo me se si fosse continuata anche sotto la neve così, perché poi abbiamo visto che dopo dieci minuti che ha sospeso la partita ha poi smesso, potevamo sicuramente fare la nostra sporca figura. Quella che mi ha scusa. Stavi finendo Luca? Sì, sì. Volevo chiedere però prima ai due giocatori se ricordano nella loro esperienza personale partite analoghe che avete giocato in quelle condizioni. Vi è mai capitato di giocare con tanta neve sul campo o no? A me personalmente non manco, cioè prima di ieri. Alla testa può darsi. Solo l'anno scorso ad Ancona, ricordo quella grandinata. Ah sì. E poi a Piotrano San Benetese. Forte. Teramo San Benetese, ma lì ha già unificato il campo era stato liberato. Tu Luca? No, a me personalmente no. Ok, quindi anche... No, dicevo scusa, non interrò. Di Cappellacci che non ha snaturato affatto il suo modo di giocare, perché è ripartito con la difesa, la palla ai piedi, il difensore. Nonostante il campo, diciamo, brutto, però fa capire che la sua mentalità è quella di creare il gioco sempre da dietro e di impostare il proprio gioco. L'ha fatto anche ieri con la neve e con passaggi, diciamo, partendo appunto da dietro. Allora, direi Caterina di andare a vedere un po'. Sì, di vedere cosa hanno scritto i principali giornali locali, all'indombani del match rinviato all'Aquila Teramo nella nostra rubrica Parole di Carta. Sinceramente c'è poco da inventare, quindi il tema sarà univoco, questo è il Corriere dello Sport, l'Aquila Teramo sospesa per neve, chiaramente non ci sono le pagelle perché la gara non ha avuto il suo epilogo naturale. Il centro tra l'Aquila e il Teramo vince la neve, seconda divisione sospeso al 27esimo nel primo tempo sul risultato di 0-0 il posticipo notturno della quindicesima giornata. E poi ancora ci sono le reazioni, doppia occasione per il rosso-blu con in protecciato la prima del fischio anticipato, il risultato è azzerato, la gara riprenderà dal primo minuto come se non fosse mai iniziata. Le interviste, gli anni, ci dispiace, Cappellacci era tutto prevedibile e lo abbiamo anche ascoltato. Il messaggero, derby sospeso per neve, l'Aquila e Teramo si arrendono tanti tifosi nonostante il freddo. E poi ancora, non c'erano proprio le condizioni per continuare, dice il presidente dell'Aquila, Corrado, Chiodi. Poi ancora, la città tra l'Aquila e Teramo vince la neve, l'arbitro sospende il derby dopo 27 minuti sullo 0-0 per impraticabilità del campo, da definire la data del recupero. Cappellacci dice, rischio prevedibile, era giusto così. Io direi che sull'Aquila e Teramo non c'è molto altro da aggiungere, quindi andrei quasi a fare una sorta di epilogo su questa partita, però possiamo dire che questa gara, lo chiedo a Mattia e poi a Luca, si inserisce un po' in questo momento del Teramo, con una squadra che sembra aver comunque riguadagnato una certa autostima, dopo quella serie di 4 sconfitte in 5 partite, solo quella vittoria nel derby di Chieti, è arrivata la partita con la Vigor, poi il pareggio con l'Arzanesi, il pareggio con il Campobasso dove però avete fatto molto bene, quindi anche la gara di ieri, nonostante le assenze, squalifiche e infortuni, su quel campo, contro una squadra così forte, andare a fare la partita. Nella nostra indole giocare a calcio, perché il mister vuole quello, che noi prepariamo la settimana facendo schemi, giocando palla a terra, poi i risultati come possono venire come no, c'è stata quella trafila sfortunata di tre sconfitte consecutive, una anche per disattenzioni nostre, però noi ci siamo ripresi bene, contro la Vigor Lamesi abbiamo dimostrato caratterialmente, sotto l'aspetto del gioco, che ci siamo e che questo campionato riserva molte, non molte differenze tra squadre di bassa classifica e di alta classifica. Il Teramo lo sa bene, perché contro le ultime, Interregio e Campobasso, ha fatto 0 punti e un punto. Diciamo che è molto livellato come campionato. Ecco, come avete vissuto quella sfilza di risultati negativi, quel periodo? Cioè, eravate comunque consci del fatto che si potesse uscire oppure stava iniziando a seppeggiare della paura circa, insomma, le vostre convinzioni? Sicuramente un po' di tensione dopo la prima, la seconda, la terza sconfitta consecutiva era subentrata, però noi siamo andati avanti sempre uniti, lo spogliatoio ha reagito bene e abbiamo reagito molto bene alle tre sconfitte consecutive. Infatti si è visto con la Vigor Lamesi che abbiamo fatto una grossa partita e abbiamo portato a casa i tre punti. Senti, quei dieci giorni tra la conferenza, shock di Cappellacci e poi la pace tra società e mister, voi come l'avete vissuta all'interno del vostro spogliatoio? Nel senso, cercare di isolarvi da quello che stava succedendo o se ne parlava un po'? Ma noi siamo stati sempre esternati da questo fatto, noi pensavamo solo al campo, non pensavamo alle critiche, alle giornalisti che dicevano rottura tra mister e presidente, noi pensavamo solo a fare bene il bene del Teramo e il bene per noi. Luca, invece questo periodo come è stato vissuto? Anche da te, perché tu sei passato da un momento in cui giocavi poco, quasi per nulla, a un momento dove invece trovi regolarmente il campo da titolare. Quindi questo momento di transizione, come lo hai affrontato? Sì, diciamo che non è stato facile perché comunque non giocare penso non faccia felice nessuno però lavorando in settimana così magari non so cos'è cambiato nelle idee del mister perché ultimamente mi sta mettendo in campo e niente, ci vuole tanta, secondo me più forza mentale come è successo nella sfizia di partite che abbiamo perso per risolvere e levarsi da quei momenti perché comunque devi lavorare, devi cercare magari di non pensarsi nemmeno troppo perché altrimenti ti fasci la testa e non ne esci più fuori. Allora, Mattia lo conosciamo bene, difensore di fascia, arcinio, senso dell'anticipo, grande velocità eccetera Luca, pensavo fosse una sorta di classico playmaker e quindi l'alternativa soltanto a Coletti invece lui sta trovando posto ora da mezzala. Come commenti il suo rendimento? Io ho avuto bene perché innanzitutto nel 4-3 le mezzali devono attaccare gli spazi e lui va senza palla, cioè da quello che si diceva quello suo, mediano invece io lo vedo bene pure mezzala perché sai nei tempi giusti inserirsi dei tagli che fa di Paolo Antonio perlomeno si infila a percussione come fa anche lo stesso Valentini infatti l'ultima partita Valentini si è trovato solo davanti alla porta è come quarto attaccante perché due ali erano tagliate, centravante stavinare e lui è entrato come da dietro a luci spente diciamo così e Reglini ha fatto bene quando ha giocato, mi fa molto piacere perché abbiamo un giocatore in più che ci può dare una mano al centrocampo anche quando diciamo purtroppo Foglia ancora non ingrana e quindi lui è stato un bravo a creare carpe diem è il momento giusto e speriamo che continui a giocare così bene, bene ci fermiamo sul lato difensivo pure lo vedo abbastanza rilanci copre pure quindi è completo come giocatore quindi ci sta no? copre e attacca gli spazi lui ha acquisto più autostima e sicuramente andrà sempre meglio posso andare? puoi puoi assolutamente ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria ci troviamo qui tra pochissimo con i vostri messaggi prima di parlare di tutte le novità che riguardano la biglietteria vediamo cosa è successo nella quindicesima giornata di campionato dove la Salernitana conquista il primo posto sorpassando l'Aprilia e il Pontedera per quanto riguarda le abruzzesi al di là dell'ormai consolidato derby rinviato il Chieti perde fuori casa con il Foligno prossimo avversario del Teramo domenica prossima chiude la classifica il Fondi tutto questo nel prossimo servizio ora l'operazione sorpasso è completa la Salernitana va come un treno soffre e batte nell'anticipo il Martina poi si mette in poltrona per gustarsi i passi falsi domenicali delle altre due squadre che condividevano la prima piazza a due giornate dalla fine del girone d'andata l'undici di Perrone si prende il primo posto con l'obiettivo di non fermarsi e di impadonirsi definitivamente del girone B venerdì però sul manto della Rechi allentato dal maltempo che ha reso la partita un'autentica battaglia il Martina si è confermato nostro duro da battere la bella prova non è servita ai ragazzi di Di Meo per uscire indenni decisivo il gol di Matteo Guazzo a metà primo tempo prosegue la discesa quasi verticale dell'Aprilia lontana parente della squadra dominante di inizio stagione al quinto Ricci passa una delle squadre da trasferta più insidiose il Gavorrano che con il tapin di Nocciolini al diciottesimo dimentica il precedente stop interno con l'Aquila pur avendo molto tempo per rimontare i Ponzini fanno fatica e solo poche volte creano i presupposti del pari attraverso di Gomez al settantaquattresimo per l'Aprilia appena due punti nelle ultime cinque partite Gavorrano in zona playoff deve accostentarsi di un pari a reti bianche il Ponte d'Era che non supera la sempre efficace organizzazione difensiva della Vigo Ramezia che non a caso si conferma la migliore retrovia del girone i Granata Pisani hanno spinto molto specie nella ripresa hanno creato anche delle occasioni ma senza scalpire le sicurezze del portiere forte buonissimo punto per i Lame Tiri e tutto sommato da non disprezzare per il Ponte d'Era da solo al secondo posto anche in virtù della sospensione di L'Aquila Teramo si ferma invece il Chieti che in trasferta non perdeva da tre partite stesso esito di Poggi Bonzi 1-0 decisivo il guizzo di Balistreri in apertura il Chieti recrimina per la traversa di Alessandro e per una gara tenuta in mano ma senza trovare sbocchi offensivi anzi nel finale più di 10 per l'espulsione di Rinaldi e rischia più volte di subire il raddoppio di rimessa per i Falchetti playoff a meno 2 e la zona playoff si allontana con 4 vittorie nelle ultime 6 partite importante colpo dell'Arzanese che al Valle Fuoco bizza il blitz di mattina rende amara la prima da allenatore di Polidori ex vice del Silurato Fraschetti accade tutto nella ripresa Pera su rigore risponde alla rete di caso il centro risolutore è di Elia con un tiro radente che beffa il rientrante a Rosiglioni i Senesi chiudono in 10 per l'espulsione di Ilari per il tecnico Rogazzo la capacità di compattarsi da parte dei giocatori dopo il suo esonero lampo è stata determinante per i 7 punti nelle ultime 3 partite prosegue la ripresa del campo basso che centra la seconda vittoria consecutiva al nuovo Romagnoli su un campo allentato dalla neve la Versa conferma invece la sua involuzione importante il mercato degli svincolati per i lupi dopo gli assist di di vicino a fare la differenza stavolta è la zampata dell'ultimo acquisto la Cev fondamentale successo di rigore per l'Interreggio Zampaglione si procura e trasforma il penalty decisivo per il Melfi una sconfitta resa ancora più grave dalle 3 espulsioni Dermacu, Benci e Porcaro per la prossima gara col Borgo a Bugiano Biteto dovrà inventare la difesa Borgo che a sua volta nell'altro anticipo supera in rimonta al porterese il Fondi una disattenzione difensiva agevole il vantaggio ospite di Bernasconi poi va a lavoro la coppia del gol di Massi un gran gol di D'Antoni e la punizione di Dimash deviata dalla barriera rovesciano il risultato questo è il quadro della situazione prima di andare da Alessio una considerazione con Tonino Luzzi perché è saltato la settimana scorsa Fraschetti del Poggi Bonzi è stato messo Polidori il suo vice notizie dell'ultima ora si è dimesso Romagnello allenatore della Versa Normanna al suo posto Raffaele Sergio indimenticato difensore di Lazio Udinese ma benedetto pure aspetta notizia dell'ultimissima ora Capuano torna Ezzolino Capuano per la nostra felicità torna lui perché è stato esoterato Provenza che aveva avvicendato Capuano qualche settimana a fare dei personaggi che commento fai di fronte a tutti questi cambi in panchina a niente l'allenatore ormai quando vengono sono legate al Dio risultato è normale che quando vince un bel ragazzo quando perde così cioè diciamo che siamo legati tutti quanti a risultati e c'è chi chiama Poi anche i presidenti che pure sono presidenti particolari pure che si diverte l'ambiente è un stile dei tifosi poi Capuano fu richiamato l'allenatore Sostituì pure Capuano giù a a Juve Stabia quando Capuano era a Juve Stabia Monaco quello del Foligno sì 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 quindi insomma il fatto di giocare l'allenatore che già c'era stato è una giostra è una giostra ormai quindi a Piano D'Accio caro Umberto che ci segue dietro le quinte tornerà ci sarà Ezzonio Capuano allora dicevi Mattia? no non si possono ripetere giocavano andiamo da Alessio area marketing sempre in fibrillazione però state cercando di risolvere questa problematica della flusso allo stadio di Piano D'Accio e avete varato questa iniziativa mi hai detto biglietto amico allora cosa consiste e poi queste variazioni al prezzo dei biglietti non del biglietto dei biglietti saranno definitive uno due come siete arrivati alla decisione di riaprire i distinti quest'altra grandissima novità sì ma queste erano delle cose che comunque aveva già annunciato il presidente Campitelli ultimamente che era nel desiderio insomma della proprietà riaprire il settore distinti perché in quanto comunque ad oggi effettivamente è l'unico settore dello stadio di Piano D'Accio insomma che nelle ore diurne chiaramente può può avere insomma la possibilità l'unico settore diciamo un po' più assolato rispetto agli altri quindi questa è un'importante novità appunto come detto voluta dal presidente che siamo riusciti a portare a termine poi chiaramente c'è stato un discorso di variazione dei prezzi sempre in considerazione del fatto che visto il momento comunque di difficoltà sicuramente economica che stiamo attraversando la proprietà diversificato si la proprietà comunque ha deciso di tornare sui prezzi ai tagliandi di andarle a ritoccare quindi dopo svariati mesi insomma anche erano sorti vuoi dire gli importi anche qui con aiuto di Marco Pedigoni che ci fa vedere il sito innanzitutto sulla tribuna VIP teniamo a sottolineare che comunque non c'è non c'è stata nessuna variazione perché perché comunque era doveroso nel rispetto delle persone che hanno sottoscritto l'abbonamento comunque non andare a modificare i prezzi quindi sicuramente per quanto riguarda l'area della tribuna VIP i tagliandi sono rimasti fissi a 25 euro senza chiaramente l'opzione del tagliando ridotto poi abbiamo visto la tribuna laterale che da un prezzo intero di 18 euro siamo passati a 12 euro per quanto riguarda chiaramente la tariffa intera e poi dopo c'è il ridotto di 9 euro dove saranno le agevolazioni per le donne gli over 65 e ragazzinati dal 94 al 98 ossia dai praticamente 14 ai 18 anni per quanto riguarda appunto il settore distinti questo tanto ho citato settore distinti avremo sarà già aperto dalla partita contro il foligno quindi in vigore già da domenica è un ulteriore sforzo che tengo a sottolineare da parte della società perché chiaramente aprire un settore implica anche un dispendio economico in quanto comunque ci devono essere ulteriori forze di sicurezza comunque come prevista dalla legge a disposizione del settore quindi però voglio dire il Presidente ha voluto dare questo ulteriore questo ulteriore ha voluto fare questo ulteriore passo avanti quindi e quindi già da domenica sarà aperto questo settore e abbiamo messo i prezzi a 10 euro per quanto riguarda chiaramente il prezzo intero il ridotto 7 euro chiaramente con tutte le agevolazioni che hanno tutti i ragazzi quindi da 0 dai 14 ai 18 anni gli avversano 5 le donne poi da notare anche la riduzione della curva quindi passiamo dall'intero che era di 10 euro a 8 euro con i dovuti ridotti e poi la curva nord che comunque è rimasta il settore ospite che è rimasto in vera da 10 euro chiaramente il tutto non abbiamo comunque modificato il discorso dei ragazzi quindi anche in considerazione del fatto dei progressi che facciamo con le iniziative con le scuole di tutti questi coinvolgimenti che facciamo con i ragazzi all'interno della città e fuori dalla città per cercare di creare quanto più entusiasmo possibile praticamente rimane anche il discorso del ragazzo 0,14 anni l'ingresso gratuito allo Stato di Piano d'Azio ritenete che questa politica possa incentivare l'afflusso di più persone ma il fatto di offrire una diversificazione del prezzo un settore in più a disposizione ma guardo sicuramente oggi obiettivamente voglio dire noi abbiamo fatto una politica poi strada facendo insomma ci si può anche rendere conto che le difficoltà effettivamente economiche comunque col passare dei mesi non è che l'economia italiana piuttosto che mondiale è andata comunque sempre nella stessa maniera ha avuto sempre lo stesso andamento quindi è normale che anche noi insomma anche la proprietà ha ritenuto giusto insomma effettuare questi ritocchi che saranno comunque modifiche definitive e tengo a settore fino alla fine del campionato poi non ci fermiamo qui perché comunque c'è anche un'importante novità oltre alla riduzione dei prezzi oltre alla riapertura del settore distinti e ci sarà anche un ulteriore servizio voluto sempre dal presidente che è quello di poter portare o meglio che il tifoso che vorrà venire allo stadio la domenica avrà anche il privilegio di far sì che il biglietto gli venga consegnato nella propria abitazione barra attività commerciale quindi questo è un discorso che vale per tutti gli esercenti della città di Teramo piuttosto che per il tifoso quindi siamo anche come funziona questa novità adesso ci sarà un personale qualificato quindi delle ragazze ma sarà attivo da subito ci stiamo lavorando già da questa settimana già da questa settimana stiamo facendo chiaramente per metterlo tu come ben sai a regime praticamente che dalla prossima partita quindi da domenica sicuramente è già attivo quindi abbiamo già fatto questo sforzo nella riduzione dei biglietti a prendere il settore distinti inizieremo già domani con questo nuovo anche programma che è quello che serve chiaramente il fine è sempre quello di incentivare l'ingresso allo stadio di quanto più pubblico possibile perché chiaramente sappiamo che in una società di calcio a prescindere insomma dal budget economico è determinante ai fini anche dei risultati calcistici perché questo servizio come allora praticamente metteremo anche sulla allora a parte ci saranno delle persone preposte selezionate chiaramente che faranno appositamente questo lavoro quindi chiameranno l'interlocutore verrà dato l'interlocutore comunque darà questo nominativo poi sarà la società a portare a destinazione questo tagliando quindi cioè questo onde evitare file botteghini onde evitare di andare verso gli esercizi commerciali ad acquistare il biglietto quindi comunque l'utente si ritrova prima della partita quindi al sabato il biglietto a casa chiaramente questo è possibile tramite o un servizio che adesso andremo a mettere anche su internet quindi il tifoso prenota il suo biglietto da un punto di vista proprio telematico con il nostro sito ufficiale poi saremo noi quindi il nostro personale a portare a destinazione il biglietto il tagliando attraverso il sito internet si metterà in moto la macchina organizzativa che porterà poi un vostro inserviente assolutamente delegato da voi scelto da voi porterà nell'abitazione del tifoso a recapitare il biglietto oltre chiaramente al discorso della chiamata che è molto importante perché perché io chiamatelo in telefono sì la chiamata il contatto diretto telefonico perché siamo convinti e certi ti faccio un esempio guarda io ho sentito dicevo anche al presidente ai miei colleghi qualche giorno fa un collega che oggi lavora a Palermo dove comunque anche una società così importante e blasonata oggi pur di far arrivare a quanto più pubblico lo stadio comunque sceglie una politica simile quindi anche loro con uno staff di persone praticamente girano per le attività commerciali cercando di portare quanto più entusiasmo possibile perché obiettivamente se dobbiamo fare questo è giusto che si faccia così è giusto che le persone vengano incentivate e quindi noi chiaramente siamo qui per cercare di creare calore e dare comunque al brand della Teramo Calcio la giusta identità entro quale giorno della settimana entro venerdì si potrà fare questa richiesta perché poi il sabato passa in azione questo chiaramente in concerto con il direttore generale stiamo valutando questi ultimi ritocchi perché chiaramente è una cosa partorita da qualche ora quindi ripeto poi stamattina insomma diciamo che il tutto è in fase embrionale probabilmente nella gara contro il Melfi riuscirete a stare quasi totalmente a regime allora con la gara con il Melfi saremo completamente a regime già da questa settimana la cosa che la società Teramo Calcio garantisce è la riapertura del settore distinti la variazione dei prezzi e inizieremo sin da subito perché già dalla giornata tra domani e poi domani inizieremo a lavorare per ottimizzare questo servizio quindi portare appunto il biglietto a casa dell'utente ok Tonino cosa ne pensi? una cosa buona a me non vediamo più quel muro di cemento con quello schermo vuoto rivediamo un po' di spettatori distinti poi poi niente speriamo che il pubblico possa capire tutto questo sforzo che ha fatto la società Peroni in particolar modo ha avuto questa idea che possa capire poi devono venire all'Australia insomma anche se secondo la tua teoria sarà difficile io rimango sempre col concetto della teoria però diamo atto al presidente Adalessio che adesso non c'è più scusa ci stanno facendo tutto il possibile anche portare il biglietto a casa adesso le va a comprare la prova la volevo dimostrare anche con il terramodei esatto con il biglietto a 5 euro chiaramente ci si aspettava un afflusso maggiore di persone ma questo comunque a noi non ci demoralizza non ci destabilizza assolutamente perché comunque il nostro dovere è quello comunque di perlomeno comunque quello del sottoscritto è di cercare di portare entusiasmo come detto prima valorizzare il brand come si valorizza con le persone con la città con l'affetto dei tifosi perché altrimenti oggi quando si parla di valorizzazione del brand si parla di dare al brand allo scudetto questo prestigioso scudetto che vediamo nelle maglie di questi ragazzi comunque una giusta identità e come la si dà cercando di far innamorare le persone come facciamo innamorare le persone portandola all'interno dello stadio cioè non ci sono altri modi perché comunque la Terramo Calcio con il sottoscritto e chiaramente con tutti i colleghi che orbitano intorno a questa importante società durante i giorni e le settimane si prodicano perché comunque noi oltre a fare questo oltre a fare questo facciamo tanti tipi di attività facciamo i progetti scuola facciamo comunque siamo presenti nel sociale io ieri mi sono regato allo stadio dell'Aquila e chiaramente con il rispetto per questa questa importante società come l'Aquila Calcio ma non hanno una struttura paragonabile a quella della Terramo Calcio né da un punto di vista proprio della location parlo di stadio né da un punto di vista proprio organizzativo ma con il rispetto della società Aquila Calcio quindi voglio dire io credo che la società Terramo Calcio non pesante con questo voglio dire che la società Terramo Calcio è ben organizzata nel senso che la società Terramo Calcio è una hospitality importante dove la domenica comunque c'è un afflusso di sponsor di abbonati cioè quello che la società Terramo Calcio dice chiaramente il giorno dopo fa quindi io per questo insomma ci dobbiamo ci possiamo sicuramente sentire abbastanza insomma soddisfatti dell'operato torneremo più tardi a parlare dell'altra iniziativa a prescindere Sky a prescindere diciamo la categoria ma io penso oltre alla pigrizia e il Terramano un po' sia dotato anche della distanza dello stadio questo sai poi giù ci fa freddo abbastanza e quindi abituati là allo stadio dentro la città ancora non riescono a fare la muta questo può darsi che sia una giusta chiave di lettura allora il settore distinto alla fin fine è un settore assolato quindi c'è possibilità sicuramente magari anche il prezzo ecco magari anche il prezzo ma io secondo me mister lo sai cos'è io onestamente voglio essere sincero non mi aspetto già da domenica una cornice importante scusa quando ci fu la diminuzione a 5 euro aumentò di 200 persone appunto io di fatto sto dicendo non mi posso aspettare chiaramente una risposta così importante già da domenica perché perché quando abbiamo fatto la politica del terramodei a 5 euro abbiamo visto che abbiamo avuto circa 600 paganti scarsi quindi chiaramente e parlavamo di un prezzo simbolico a 5 euro chiaramente non ci aspettiamo grandi numeri da domenica ma sicuramente lavoreremo da qui già alla seconda partita che renderemo a fare a casa lavoreremo sulla città in che modo con la chiamata dipende anche dai risultati della squadra dai risultati Mattia ma voglio dire una cosa a fare voi anche perché sta anche a voi magari con le prestazioni con i risultati tu l'iniziativa però l'hai fatta quindi adesso però voglio dire noi siamo abituati a terra purtroppo ce li dico purtroppo è che così quando abbiamo raggiunto anche 4 mila persone come siamo in prossimità della riapertura del mercato se c'è qualche acquisto è così allora possiamo riaccendere l'entusiasmo della piazza la curiosità io non sono d'accordo con questo vostro pensiero ma vi spiego perché mi documento giornalmente allora vi posso dire un altro sport chiamato rugby va bene cioè che non ha nulla a che vedere con il calcio durante la domenica vedi questi stiati pieni di gente perché? perché comunque si vive la giornata di puro sport quindi non si vive il risultato calcistico o la vittoria della squadra del cuore chiaramente quello è determinante per un gruppo di tifosi ma l'obiettivo della società è quello di portare quanta più gente possibile allo stadio quindi che dobbiamo fare? però tu parli degli stati di rugby ho fatto un esempio di primo cioè delle categorie alte parlo anche di calcio internazionale non quello che si viene non quell'italiano internazionale parliamo di in serie C andrebbero fatti dei distingui comunque però ad esempio il basket a termo stavi da uno portava 3.000 persone nella domenica perché il palazzetto stava vicino alla città e quindi gli autobus portavano continuamente io sono convinto che c'è ultimamente neanche tanto più mister ultimamente anche il palazzetto era nuovo con l'avvento un po' della crisi societaria dipende sempre dai risultati secondo me dalla forza della squadra se punta in alto la gente viene come allora ascoltiamo o meglio leggiamo cosa ci dicono da casa perché sono arrivati tantissimi sms abbiamo fatto un po' tardi ma valeva la pena visto che Alessio ci ha illustrato delle novità davvero rilevanti nell'ambito della biglietteria dello stadio Neve 1 l'Aquila 0 per vincere i campionati non basta la squadra sul campo ci vogliono anche le organizzazioni e serietà soprattutto se sei in diretta tv direttante allo sbaraglio è duro questo nostro amico evidentemente tifoso del termo nei confronti dell'Aquila Calcio nell'ottica dell'organizzazione di questa partita grande defa la tua dieta specifica dà dei frutti incredibili dovresti condividerla su qualche magazine sportivo gran fisico saluti da Cristoforo chi è Cristoforo? Colombo? è un tuo amico eh? si si gli hai fatto una dieta questi sono degli amici di squadra ah quindi compagni di squadra prescrivite le diete no non è vero va bene allora prossimo messaggio tocca a me defi la tv ingrassa un po' alla fine dopo due giorni di litigio potevate venire con la macchina di Alessio mit 2 euro chi è che non lo so serraiocco chi è? no no questo non è serraiocco questo non è serraiocco non si riesce a decriptare va bene vai buonasera meno male che la partita è stata rinviata così alla prossima nessuno potrà piangere tra qualifiche e infortuni sarà una partita senza scuse che vinca il migliore forza l'Aquila e Massimiliano ecco questo è il nostro amico Massimiliano che ci scrive sempre dall'Aquila e fa sentire anche la voce aquilana è giusto così credo che molte teste pensanti del calcio escono al mattino lasciando il cervello sul comodino voglio il nome o i nomi di coloro che hanno programmato la partita a quell'ora di sera all'Aquila dice Stefano Leone che ringraziamo e lì insomma tra la Rai, la Lega eccetera non so se Magalli ci entra pure o sta dentro ma chi lo sa però comunque scelta infelice ma l'abbiamo detto qui quando ci fu la designazione un mese o quasi un mese e mezzo fa quindi non ci voleva la scena l'Aquila è una città più fredda d'Italia sicuramente sì ma ieri anche all'Aquila gli aquiliani stessi ieri all'Aquila dicevano ma come si fa a programmare qui una gara del genere il 10 dicembre di sera già il poveriggio è tanto se si riesce a fare una partita anche perché ora la partita sarà comunque recuperata penso a gennaio non lo so però speriamo che il tempo sia un po' più clemente proseguiamo vai col gelo aquilano le dei si sono rinfrescate domenica dobbiamo andare in campo come si fa in una finale quella col Foligno è la gara più delicata un saluto alla coppia che aglieta il video targata Andrea Caterina e al balfo calcistico più pregiato Tonino Luzzi forza teramo a vita Antonio De Santis ciao Antonio e in effetti ha ragione Antonio perché la partita di domenica è molto importante perché gara casalinga si chiuderanno il Foligno è una squadra forte ma comunque alla portata e c'è bisogno di dare polpa alla classifica io dissi che il Salerno e l'Aquila potevamo anche al limite metterle ma però dovevamo vincere con la diretta concorrente che diciamo il Foligno che ora ha scavalcato anche il teramo con la vittoria di domenica scorsa vediamo un altro messaggio ecco qui Rigo sono Pat sono appena arrivato a casa e ti hanno rubato il sole che cosa? vai Righi mi hanno rubato? Pat chi sarebbe? ma Pat penso che sia Patierno compagno di casa è stata nel condominio di via Oberdan mitico però non so cos'è che voglia ti sei perso i presto presto dello scorso anno con cui svegliavamo Chauvet Company, Masini eccetera alle 6 di mattina va bene Caterina affascinante come un cogliere io ho già d'astri sul girocollo dell'universo siamo ormai alla stratosfera degli apprezzamenti sull'Olimpo chissà se sono i soldi o se si allarga sempre di più questa cerchia ormai sempre più sconfinata di ammiratori, di fan buonasera al telespettatore della scorsa settimana che diceva che la società dell'Aquila fallirà perché gli imprenditori sono di zona e vi siete fatti pure una risata rispondo che il presidente è un vero aquilano ed è uno dei nostri la società non ha un debito nemmeno spalmabile capito? forza l'Aquila ma noi non abbiamo detto in questa sede facciamo apprezzamenti lusinghiere assolutamente massimo rispetto, stima e non abbiamo mai espresso questi commenti o ha sognato questa cosa il nostro telespettatore oppure si è confuso con altre serie un po' per maloso io però non lo so sinceramente qui in questa sede è deriso all'Aquila assolutamente assolutamente poi peraltro in fair play spesso dirigenti e giocatori aquiliani sono ospiti ma ci mancherebbe altro si dice un messaggio si dice un messaggio comunque assolutamente può stare tranquillo l'amico telespettatore che nessuno deride nessuno qui ciao sono un tifoso volevo rivedere la magica punizione di ieri sera calciata da Righini in stile Cristiano Ronaldo fenomenale Giacinto dice Giacinto Cristiano Ronaldo quando l'hai calciata con tutta la neve non mi ricordo neanche io comunque per chi la volesse rivedere perché noi la mangiamo in onda lo stesso anche se non vale quando finirà Teramo Channel cambiate il canale di TV6 andate sul 116 TV6 Sport e vedete i 27 minuti di l'Aquila Teramo e poi la replica di Teramo Channel quindi se volete ritrovare la punizione di Luca è in canna sul canale del TV6 Sport a partire dalle 22.49 mi dicono per Antonio Luzzi la città degli anni 30 si chiama l'Aquila non Aquila l'Aquila l'Aquila che ho detto io? però ti posso dire una cosa questo lo posso dire su un lancio che ha fatto Rai Sport della partita hanno detto Aquila e insomma bisogna stare un po' bisogna stare attenti perché è l'Aquila in effetti prossimo messaggio ciao sono un tifoso volevo chiedere a Righini dove ci trova uno stilista che fa quell'ottimo taglio di capelli assomiglia a un palettone però sei forte forza Teramo Luca dovremmo eliminare i messaggi magari è sempre il Pat secondo me è anche il trio CAI di Ferrani e Valentini i tuoi 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 con regionali romagnoli questa questa clac romagnola dentro in seno da Teramo Calcio buonasera a tutti non è piaciuto a nessun atteggiamento dell'intero staff Aquilano potevano tranquillamente segnare il campo con strisce rosse e non l'hanno fatto perché forse sapevano immaginavano che con il campo pesante il Teramo li avrebbe messi sotto scorretti perché nevicava anche dalle prime ore del pomeriggio è chiaro che quello che è successo ieri poi da adito a tanti commenti e quindi può passare anche un'interpretazione maliziosa come quella che fa l'amico telespettatore però come abbiamo ascoltato i due mister dicevano che era giusto sospenderla noi abbiamo sentito Mattia che diceva si poteva proseguire Luca che ha detto ha fatto bene l'arbitro a sospendere Luca cosa buona il cioccolato che ci ha passato chi ha usufruito diceva Mattia era il contrario lui diceva che ah scusami Luca diceva che si poteva proseguire Mattia che era giusto così perdonatevi quindi l'unica cosa buona è il cioccolato che ci ha passato si ieri Jacopo forcella il collega Jacopo ci ha dato ieri e non solo noi con le creppe e le cioccolate tu no Mattia a noi no negli spolito non vi è stata recapitata prossimo messaggio siamo circa un minuto e mezzo dalla pausa vediamo altri 3-4 messaggi ho visto un bel teramo ieri peccato potevamo strappare un forse uno forse anche tre punti io lo trovo scandaloso che non si è giocato Peter Pan forse scandaloso no si poteva proseguire ma anche perché ripeto il problema lì è molto forte anche l'incolumità dei calciatori perché il campo ha una patina molle sopra poi c'è il ghiaccio temperatura a zero gradi o sotto zero quindi bisogna anche valutare che ci sono delle persone che si affrontano l'incolumità comunque salvaguardata se erano in vantaggio segnavano subito il campo vinciamo la prossima torniamo sempre all'interpretazione di qui sopra soggettiva buonasera complimenti allenatore Luzzi il più obiettivo è preparato Massimiliano grazie a proposito si parlava di una convocazione di un ragazzo per la gara dell'Aquila poi alla fine c'era fatta Petrella ad andare in panchina chi sarebbe andato secondo me solo il talebano che c'era in mente perché non mi ha detto niente io aspettavo con anza che mi dicesse portami su un ragazzo la ciafagna mercogliano meluso ma è anche giusto che sia così perché la panchina è formata da elementi importanti giovani pure che hanno dei contratti e quindi non sono venuto a cambiare l'aria qua giù e quindi a un certo punto i ragazzi quando è ora hanno anche il tempo di poter entrare piano piano perché insomma non è che dobbiamo affrettare le cose due messaggi ancora vediamoli ciao Luca sono un tifoso del termo e nella vita faccio il musicista già mi comincio a suonare siccome tu hai tatuato una chitarra volevo chiederti se sei un musicista anche te che rispondi? qua sta meglio non rispondere questo è Ferrani che se l'ha con hai la passione della musica hai la passione della musica suoni no no non c'entra niente non c'entra niente è falso però noi siamo curiosi vogliamo sapere perché sai subliminare va bene lo sanno loro non andiamo oltre in paesi del nord Europa si gioca in tutte le categorie con tempo peggiore il Teramo ci ha solo rimesso vedi squalifiche per domenica effettivamente beh in effetti ieri poi nel dopogara anche scambiando qualche parola a telecamera spende con Cappellacci questo fatto di non riprendere la partita dal 27esimo ma di doverla rifare da capo con le squalifiche che si ripercuotono sulla prossima gara col Foligno insomma non è stato il massimo comunque Caterina noi un attimo diamo un attimo la linea alla regia torniamo qui tra pochissimo con i vostri messaggi domenica prossima il Teramo affronterà in casa il Foligno conosciamo meglio i nostri prossimi avversari fino a poco più di un mese fa l'etichetta di delusione del campionato poteva essere incollata al Foligno ancor più che alla Vigor Lamezia se non per vincere il campionato l'organico dell'Umbria era stato allestito comunque per un torneo d'avanguardia ed invece le difficoltà sono arrivate ben presto quasi come una prosecuzione dei pessimi risultati che lo scorso anno anche a causa di problemi societari hanno portato il Foligno alla retrocessione dalla prima divisione categoria nella quale era approdato per la prima volta nel 2007 per restarvi 5 annate consecutive la principale conseguenza è stato il doppio cambio della guida tecnica dal dimissionario Giovanni Tedesco dove appena 4 turni con 3 sconfitte sulle spalle al suo vice Mirko Barbetta il cui interregno è durato appena due gare quindi la dirigenza si è affidata all'esperienza di Francesco Monaco allenatore brindisino ex Ascoli e Ancona che due anni fa ha portato la Carraresi in prima divisione e che in Abruzzo ha vissuto una stagione a Lanciano e da calciatore per tre anni ha indossato la maglia del Teramo dall'81 al 84 la risalita dei Falchetti come da soprannome che deriva dal simbolo sociale è partita dopo il pari col Gavorrano a quel punto Foligno quintultimo con appena 7 punti nelle successive 6 partite sono arrivate 4 vittorie un pareggio ed una sconfitta un'accelerazione che ha prodotto un riavvicinamento sensibile alla zona playoff ora a meno 2 un traguardo questo che ad inizio stagione era identificato come minimo e non può essere altrimenti quando in Rosso ci sono due attaccanti come Pietro Balistreri e Antonio Gaeta il primo vincitore di questo girone lo scorso anno a Perugia da gennaio in poi il secondo Bomber con 21 reti nella Carrarese di Monaco di due anni fa promozione in prima attraverso i playoff tra gli altri elementi di spicco l'ex padova Paolo Cotroneo difensore e capitano dei Falchetti e poi il regista ex Perugia e Napoli Fabio Gatti che a Foligno finora ha trovato poco spazio ma a Teramo potrebbe giocare dal primo minuto data l'assenza per qualifica di un altro uomo importante del centrocampo di Monaco Borgese c'è uno degli under migliori del girone il palermitano classe 93 Francesco Bassallo una vera e propria scheggia dal mercato degli svincolati voluto dal tecnico Monaco è arrivato un nuovo attaccante il 92 Gabriele Fondi nelle ultime settimane il Forigno ha giocato con la difesa 3 davanti al portiere classe 92 Piacenti il dubbio è il recupero di Cotroneo pronti ad affiancarlo due tra Biondi Pupeschi e Adamo Pupeschi concorre anche alla fascia destra con Costanzo a sinistra Rampi o Petti in mediana due posti per tre giocatori Gatti Lander Fiordiani e il possente Menchinella davanti Balistreri affiancato da Gaeta a destra e Vassallo a sinistra le due squadre si sono già affrontate ad agosto in Coppa Italia 2 a 2 a Piano Daccio con le reti di Ferrani e Bucchi per i Biancorossi e rimonta a Folignate firmata Balistreri e Barbetta gli ultimi precedenti in campionato sono datati stagione 93 e 94 il diavolo si impose 2 a 1 in casa e 1 a 0 in Umbria Vorremmo fare il collegamento telefonico con Francesco Monaco allenatore del Foligno però questa sera purtroppo tutta la Foligno Calci è impegnata in una cena con lo sponsor tecnico e evidentemente i telefonini non prendono bene ma sapevamo di questo possibile disservizio stiamo tentando ma difficilmente ce la faremo vi dico però Francesco Monaco è legato a Teramo l'abbiamo detto già nella scheda mister Luzzi conosce Francesco Monaco perché è legato e cosa ci puoi dire di lui dunque Francesco Monaco era un bel giocatore un mediano cioè quando giocava a Teramo di quelli tipo la di Biagio sai quegli incontristi davanti alla difesa è molto ordinato molta corsa quantità e qualità poi ha fatto la sua carriera da calciatore e lui è partito il partito delle Puglie è praticamente da Squinzano in promozione poi è salito nel calcio che conta insomma ecco è andato alla Sampadoria e poi dalla Sampadoria ha cominciato a fare la trafita di Serie C Novara a Teramo niente seguace di Orrico mi dicevi no lui a Teramo Orrico l'ha avuta la Lucchesi in Serghia B praticamente io fui ospite di Orrico quando stavo a Francavilla perché mi incuriosi molto quella famosa gabbia che aveva inventato l'aveva presa dai paracadutisti di Livorno perché lui allenava lì nella zona di Livorno aveva visto questo modo di fare il calcio dentro un recinto ad esempio come fosse il campo di calgetto con la rete sopra e quindi la palla non usciva mai quindi un lavoro lattacido a alto livello con recuperi molto bassi allora mi incuriosi andai su e fui ospite di Orrico proprio e c'era sia lui come giocatore c'era anche Mario Donatelli la mezzala che veniva da Francavilla e poi Sergio Buso il portiere che poi è andato alla Fiorentina e morto ultimamente e niente ebbe una grande ospitalità da parte di questa società e mi ricordo che i giocatori ogni volta che si andava uno a vedere questi allenamenti si lamentavano perché questo poi gli doveva spiegare questo fatto della gabbia e loro li massacravano là dentro e quindi pregavano sempre che qualche allenatore non venisse a vedere gli allenamenti ha anche allenato ad Ascoli a Lanciano e a Bruzzo si era un allenatore un rito particolare perché questo ma io parlavo di Monaco a Monaco ha allenato a Lancona ha portato Lanconi in Serie B ha fatto due finali in primavera con l'Ascoli allenava le giovani dell'Ascoli e poi ha fatto una finale mi sembra a Via Reggio no ai quarti si fermò ai quarti ha portato era bravo sia nelle giovanili e anche nelle prime squadre due anni fa ha portato la Carrarese si poi a Lanciano salvò il Lanciano e poi ultimamente stava a Piacenza prima la Carrarese poi Piacenza Piacenza è andato fallito e praticamente conosce fogli sì assolutamente sì Mattia che avversario aspettate di incontrare Domenica con nomi peraltro importanti Balistrieri Gaeta vedremo se ce la farà Cotroneo capitano difensore a recuperare dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori contro il Chieti sicuramente un avversario molto accorto che ha un punto più di noi in classifica e verrà qui per strapparci punti preziosi anche anche per loro perché non penso che loro qui vengano a fare una partita a viso aperto contro di noi perché noi abbiamo molto più da perdere più di loro senti Mattia tu sei il tuo primo anno da professionista insomma com'è stata l'ultima estate dopo il trionfo la gioia l'attesa magari per avere il primo contratto questa esperienza a te che prosegue insomma come ti trovi come la stai vivendo sì ma dopo la festa della vittoria a campionato prima cosa è stata molto bella vincere il campionato con il Teramo poi aspettavo le vicende di mercato durante l'estate molto con molta tranquillità perché pensavo dentro me stesso che avevo fatto bene e pensavo in una riconferma del Teramo e poi quando è arrivata la conferma sono stato molto felice perché qui a Teramo mi trovo molto bene avevi anche trovato qualche alternativa ti stavi muovendo per trovare l'alternativa o sei andato dritto sul fatto ci conto di restare a Teramo sì c'era qualcosa però appena ho avuto la chiamata del Teramo non ho esitato che differenza c'è tra quella Serie D che hai fatto due anni di fila e questa seconda divisione tu prima hai parlato non c'è grande differenza quando ci giochi tra le squadre di vertice e quelle di bassa classifica ci sono tutte partite difficili c'è altro che insomma ritieni di poter sottolineare di differenza sostanziale tra la Serie D e la seconda divisione c'è un abisso c'è una differenza abissale perché le movenze di gioco sono molto più veloci molto più fisico è un campionato molto difficile invece Luca gioca già da un paio d'anni a livello professionistico Mezzocorona Valenzana quest'anno a Teramo hai ritrovato il posto da titolare o meglio lo hai trovato da quella partita con la Vigor la Mezzia giocato mezz'ora hai giocato bene hai anche mancato un gol ti sei trovato quella palla lì l'hai buttato un po' alle stelle ma nel complesso hai fatto una buonissima partita tanto che ormai sei stabilmente tra i titolari abbiamo colto anche una particolare esultanza al fischio finale prego Marco di mandarla così magari ci puoi dire qualcosa perché c'è stato questo modo scherzoso di affrontare quella gioia con Cappellacci che nel frattempo ricordiamo fu sommerso dall'abbraccio dei compagni di squadra a un certo punto arriva Righini e poi ecco qui c'è questo modo di Duca di mandarlo due tre volte a quel paese Cappellacci risponde chiaramente uno pensa al fatto che Righini è stato panchinato per tante settimane dal mister e poi arriva questa partita la si vince e poi si festeggia in questo modo che è successo? sì diciamo era un siparietto dai scherzoso dai in quell'ambito lì sicuramente spero che il mister ma si è rivolto a te queste immagini perché altrimenti il campo non lo rivedo più quasi ti ha cercato sì è stato reciproco dai ti ha infangato il mister abbiamo trovato su YouTube il tuo unico gol da professionista o ne hai fatti più di uno mi risulta uno mi risulta anche a me solo uno eccolo qua un altro speciale ci siamo la grande punizione sotto un incrocio in un Valenzana Cuneo squadra Cuneo di alta classifica Valenzana squadra di bassa che significa hai mollato questa foglia morta hai capito non lo so mister l'ha scoperto commenta questo gesto balistico visto che prima parlavano e straparlavano e sproloquiamolo sulla punizione di Luca Righini ecco cosa sa fare è un capolavoro ha fatto eh sì somiglia a quello che ha fatto Coletti l'altro giorno beh qui siamo un po' più lontani siamo un po' più lontani forse è più facile perché c'è più profondità bel momento eh sì ma è casuale quel gol o puoi rifarlo ci chiediamo e si chiedono da casa no dai è ripetibile sì speriamo di sì dai speriamo speriamo da Coletti beh vabbè Coletti tirerà tante punizioni provare qualcuna visto che è in grado che arriva qui a prendere la palla va bene va bene allora poi con Alessio parliamo di altre iniziative però è il caso siccome abbiamo diversi altri messaggi andiamo a leggere cosa ci hanno scritto da casa Caterina sì Andre con l'aiuto di Marco Pediconi c'è Gilberto Marinozzi che ricordo alle camere vado io vai ciao sono un tifoso di Lighini volevo dirgli che assomiglia a Xavier Monzo ma quali sono gli esami tu sei il misto tra Antonino Asta e Renato Buso mamma mia un abbraccio luchino insomma Antonino Asta grande Antonino Asta e Renato Buso allora Renato Buso tra poco il Teramo andrà a giocarci Asta che era l'allenatore Asta sì ex Torino ora allena il Monzo se non sbaglio come mai fanno questo parallelismo sinceramente non lo capisco Asta era molto più stempiato non penso che bisognerebbe chiedere al tifoso chi è il soggetto in questione secondo me è il solito Ferrani che lui a questi ingole è la solita clacromagnola ti ho cercato ero occupato ero occupato non si sa chi ha cercato però ci hanno cercato ok allora vado io io me la prendo con la Rai posso capire che trasmettere il derby portava interesse ma cosa si poteva pretendere dal giocare la partita all'Aquila alle 20.45 di una sera di dicembre e per di più in quelle condizioni atmosferiche già ampiamente previste e non solo questo c'è anche il fatto che al fattori non erano nemmeno organizzati per prevenire questi problemi ma dice il nostro amico da casa insomma tanti tifosi biancorossi critici insomma sul fatto di fissare la partita a quell'ora e in questo periodo dell'anno e anche Mari si poteva fare qualcosina in più a livello organizzativo per prevenire certe situazioni prossimo messaggio signor Luzzi se non è bene informato l'invito a documentarsi prima se non è bene informato l'invito a documentarsi prima non sono in merito a cosa perché non se può il nostro amico telespettatore completare il discorso e dirci su che cosa non sarebbe informato il mister Luzzi così il mister se vuole può rispondere prossimo messaggio ciao sono un tifoso di Righini Roma volevo chiedere a Luca se si identifica più in un giocatore di qualità alla Vampeta o quantità alla Birindelli ciao a tutti alla Birindelli hai tanti estimatori tantissimi se sono estimatori secondo me si sono riuniti stasera prima abbiamo sentito Asta e non ricordo Buso Asta e Buso ora Vampeta e Birindelli sicuramente scapperà fuori anche un gattuso Renato Buso natore di Gavorano ex attaccante Juve-Napoli Fiorentina eccetera ma quella è mezzo rosso mi sembra eh ma forse non so so che il settore giovanile va discretamente bene cosa ne pensa mister Luzzi saluti Franco mister rispondi dopo vediamo qualche altro qualche altro messaggio potrebbe andare meglio a parte che stavamo dimostrando che con l'Aquila potevamo dire la nostra come a Chieti ma la cosa scandalosa è stata la figuraccia fatta dalla società l'Aquila Calcio se sei il Lecce o il Messina puoi anche non avere il gesso o il pallone rosso ma se sei l'Aquila no la nostra società del termo è di un altro pianeta qui si ad un calciatore gli si rompe un laccio delle scarpette dopo due secondi ha delle scarpe nuove e lucide ne deve mangiare di pagnotte l'Aquila Campitelli tutta la vita quindi si conclude con un odo al presidente dopo dopo un'ampia crisi mi ricordo giustamente che c'è il grande Leo Rastelli factotum magazziniere e quant'altro aiuta anche sottoscritto per le interviste il pomeriggio al campo grande Leo prossimo messaggio tocca a Caterina ciao Britis sono un tuo gran tifoso e ti volevo chiedere come vivi questa situazione so che è un'emozione e troverai la tua soluzione a questa sistemazione vai Britis sei un grande ma pure Britis dovrebbe leggerla secondo me Ferrani però quella situazione emozione sicuramente in quel senso le tante z Richini volevo farti complimenti per i tuoi cabelli a panettone che ti ritrovi stai facendo il bocco ti vogliono bene mai avuto un giocatore così gettonale messaggiato bersagliato poi comunque è strano perché per come Tirchi o no Ferrani è strano che mandi anche tutti questi messaggi forse ce li ha gratuiti sono diversi lo stanno a fare il buco ascolto forse ce ne o sono gratuiti Teramo Pombiere Playoff ringraziando Calce Rossa Gigi da Corropoli saluti a Gigi dunque dalla Val Vibrata prossimo messaggio buonasera a tutti una domanda ma Salerno all'Aquila i fuochi artificiali a Teramo invece neanche gli striscioni misteri delle questure si riferisce l'amico dell'espettatore al fatto che prima di Salernitana Martina fuochi artificiali anche all'Aquila mi dicono ai mesi 1500 euro di ammenda per la Salernitana anche questo è giusto far rilevare prossimo messaggio ma Calabrese con la Berretti quando la vincere una partita beh sono due messaggi è giusto che rispondi ma non rispondo alle domande così stupide però la prima no no c'è un'altra un altro messaggio diceva che il settore giovanile va abbastanza bene cosa pensa mister Lusi deve crescere ancora dobbiamo migliorare lo ho detto l'altra volta che ci troviamo in una fase di crescita dopo un anno di rifondazione di consolidamento della società però c'è un ragazzo che è andato a fare un provino in Inghilterra ecco ce ne vuoi parlare caporale caporale si è andato Norwich è andato a fare un po' di vacanze in Inghilterra a provare un po' con Norwich è sempre che è andato bene adesso bisognerà verificare ma ce ne abbiamo anche altri ragazzi nonostante che abbiamo sempre delle battute sibilline così nella televisione altre televisioni che stanno sempre a criticare questo settore giovanile i danni che hanno fatto in precedenza certi personaggi non lo dicono però noi stiamo cercando di tappare i buchi diciamo dei danni che hanno provocato quelli che ci hanno proceduto ok ora possiamo tornare con la nostra carrellata non so quanti ne mancano ma sono ancora abbastanza buonasera a tutti volevo solo sottolineare la bellezza la bravura ed il look della stupenda Caterina un bacio grazie il look un po' aggressivo look gepardesco di pelmaculato era coverta giusto allora tocca a te bravo giusto un bravo Arrighini che nelle ultime prestazioni mi è piaciuto spero continui a crescere ancora Mattia è già una certezza dall'anno scorso buonasera ecco qui non siamo alla clac questo è un tifoso io sono d'accordo perché Mattia ormai è una sicurezza e una garanzia e Luca Arrighini è una piacevole scoperta che stiamo facendo soprattutto nell'ultimo mese e mezzo prossimo messaggio che sta per arrivare scusate ma nei prestiti dello stadio non dovevano nascere anche hotel e campi da golf da golf PS complimenti alla ragazza per le scarpe pure per le scarpe ci tengo molto alle mie scarpe mamma mia attentissimo il nostro amico telespettatore guarda sulle scarpe magari dovremmo invitare qualche amministratore non so se Tonino o Alessio vogliono dire qualcosa sulla battuta lì campi da golf hotel eccetera dobbiamo aspettare magari un amministratore che ci dice qualcosa lasciamo a perdere il comune di terra se no va alla fine in galera basta basta prossimo messaggio tocca a me questa società sta facendo il massimo per riportare entusiasmo adesso tocca a noi ringraziarli per ringraziarli perciò da domenica tutti allo stadio senza scusanza e grande presidente saluti a tutti Mauro saluti anche a Mauro grazie per il messaggio è vero tutto allo stadio il più possibile per l'ultima partita di un anno che ha visto il terreno tornare tra i professionisti ed è anche un modo per salutare proprio in questo 2012 una stagione importante è un anno solare comunque che va messo col circoletto rosso nella storia della teramo calcio gentilissimo Alessio dica al presidente di valutare la totale copertura dello stadio come a San Benetto sarebbe meglio è chiaro che sarebbe meglio però poi penso se non vada valutato col presidente campinesi magari con il comune non so assolutamente è giusto ma che sta congiuntura che ci sta invece c'è tanto avere lo stadio c'è troppo ma poi ce l'abbiamo coperta dalla tribuna e poi insomma 10 euro distinti tribuna laterale 12 euro quindi insomma 2 euro in più e si sta coperti complimenti alla società per queste nuove iniziative il teramo purtroppo è comodo ed è abituato la domenica a comprare le passarelle sotto i portici a mangiare con calma e poi era comodo uscire e andare a piedi al vecchio comunale ora devo prendere la macchina e quindi terramani mangiate prima e venite a pieno dazzo l'hai mandato tu no no questo è quello e vabbè la pubblicità scrivevi non l'ha scritto Toneo Luzzi quindi è uno che la vede esattamente come te e Toneo Luzzi un altro Toneo Luzzi dai prossimo messaggio se avessimo se avessimo una squadra fortissima in alta classifica uno come Peroni con il suo spirito di iniziativa porterebbe allo stadio minimo 6.000 persone quindi riempiresti il panodaggio ringrazio assolutamente come lo ringrazio prossimo messaggio tra poco ci dirai le altre cose che bollono nell'area marketing i paganti saranno 600 ma le presenze sono il doppio teramo troppi portoghessi senza vergogna infila gli accrediti ecco si è parlato anche molto di questa cosa il messaggio può essere l'occasione Alessio per rispondere per dire la tua su questa situazione che molto volte si dice che sono di più gli spettatori di quelli che vengono comunicati ma assolutamente no perché questi sono dati che comunque li gestiamo direttamente noi dalla biglietteria quindi voglio dire oltre ai paganti c'è un numero limitato di accreditati che comunque sono stampa e dette lavori esatto stampa e dette lavori anzi come giustamente mi suggeriva anche il collega Sorgentone di sottolineare il fatto che comunque la domenica gli unici accreditati dalla società Teramo Calcio sono esclusivamente i giornalisti quindi la carta stampata alle televisioni oltre che comunque gli sponsor che comunque sono una linfa importante per la società Teramo Calcio prossimo messaggio la riapertura dei distinti verrà accolta dai tifosi con gioia non più costretti a lunghe camminate dal parcheggio all'ingresso della tribuna comunque si notano già dei primi consensi nei confronti di questa iniziativa poi è chiaro bisognerà vedere sul campo quale sarà la rispondenza ma insomma era un aspetto questo più volte sottolineato ma perché non aprire i distinti e siamo arrivati anche a questo prossimo messaggio l'anno prossimo con nove retro vi salvete a retrocessione vi salvete sicuro e direttanti penso sia un messaggio ironico per dire che l'anno prossimo il Teramo retrocederà essendoci ben nove retrocessioni intanto io aggiungo il Teramo deve pensare a portare a termine questa stagione che non è scontata e poi dopo si programmerà per la prossima mister ti stai arrampicando sei bravo un grazie a sti ragazzi e al presidente li sta provando tutte il vero problema caro presidente che abbiamo una squadra che non trascini il pubblico e non dà emozioni Campitelli ci vuole la moneta e giocatori stai e giocatori stai a Teramo una piazza non anonima come sto campionato che stiamo facendo tu vuoi dire qualcosa ma io sono Teramani e conosco bene Teramani Teramani è così quando punta a vincere qualcosa allo stadio si riega però questo anno quando si stravinceva la Serie D non c'erano 3.000 persone allo stadio no neanche 2.000 neanche 1.800 neanche 1.500 oddio c'era anche il basket che assorbiva 3.000 persone la domenica quindi sai una famiglia paga il biglietto al calcio paga il basket poi i figli vogliono andare al cinema non è che come ci troviamo adesso insomma non è una situazione tanto penso che è anche quello comunque io penso che bisogna andare con i piedi per terra programmare secondo le possibilità mantenere in equilibrio finanziario la società e fare un campionato per la salvezza quest'anno e poi l'anno prossimo salvandosi l'anno prossimo sarà più difficile ma salvandosi si guadagnerà una categoria quindi bisogna stare con i piedi per terra senza fare voli pindarici e il presidente ha già detto che a gennaio se ci sarà l'opportunità fare uno sforzo o anche qualcosa in più per potenziare la squadra non si tratta che una mangia di dolci poi mangia di sottaceti il problema è che con malavolta sono fatte spese folle anche se doveva raggiungere un obiettivo la Serie B ha fatto vedere i grandi calzatori mettere ma attualmente stanno giocando di seriata e rilizi e altri ci è passato le on quindi i giocatori a un certo livello certo la società nostra è diversa perché fa un progetto diverso da quello che facevamo alla volta quindi dobbiamo fare una tappa alla volta per cercare di riportare già in cinque anni abbiamo riportato cioè la società ha riportato il termo del calcio professionistico perché era scomparso e questo è già un grande merito alla società a Campitelli e a tutti i suoi adepti adesso però non facciamo che dobbiamo fare voli più intergi come hai detto tu perché poi se cadiamo dalla pianta ci facciamo male quattro messaggi ancora da leggere facciamo di seguito Arighi va svegliate lo provo a leggere in romano mi sembra una scrittura romana speravo fossero finiti invece invece proseguono la cosa più bella è vedere una città che con lo sport tenta di aggregarsi dopo la tragedia del terremoto questo è l'aspetto più bello del calcio grazie Antonio De Santis che ci regala sempre delle pillole di saggezza gli ultimi due sono per te Caterina grazie grande Luzzi sono un tuo ex allievo Pino Lamonaca ciao a presto di Pescara salutalo bel giocatore salutalo mi dando piacere mi vengo a trovare a termo ok l'ultimo messaggio se non sbaglio ancora per Caterina siete due botolini insieme non arrivate agli 1.80 saluti dall'interno 8 GP chi è l'interno Pighi e Patier no? no ma l'interno 8 chi sono? ma secondo me veramente si sono riuniti stasera hanno fatto la curva la curva immagino ora che avranno visto anche il tuo gol ci ricameranno da domani allora Alessio cosa bolle in pentola abbiamo 5 minuti e mezzo insomma ai 3 minuti sono anche abbastanza per delinearci insomma tutto il resto delle imminenti iniziative progetto scuola riparte si riparte il progetto scuola chiaramente c'è questo lavoro che andremo a fare adesso nei prossimi mesi sarà un lavoro corposo ed importante quindi chiaramente dove dietro ci sarà tanto tanto da fare tanto lavoro e ci auguriamo e sono fermamente convinto che comunque ci porterà dei buoni risultati poi ripartiamo con il progetto scuola il 20 dicembre saremo ad Alessandro anche con l'arrivo delle festività natalizie e anzi a tal proposito voglio anche ricordare che proprio in quella giornata anche una multinazionale importante in Italia sarà nostra ospite per chi comunque ha visto si è accorta di questo progetto che la Teramo Calcio fa quindi questo ci gratifica perché significa che comunque la Teramo Calcio non vuoi dire il nome è un'azienda del territorio Amadori è una multinazionale che comunque oggi sposa il progetto Teramo Calcio perché comunque è forte di questo importante aspetto che è quello di appunto dell'aggregare i ragazzi allo sport quindi anzi è doveroso ringraziare anche questa azienda che sarà presente appunto in questo progetto per vedere appunto come la Teramo Calcio lo porta avanti come lo svolge quindi sicuramente ci gratificano ed è sempre stimolante perché quando ci accorgiamo che certe aziende poi comunque si aggregano ti vengono dietro per questi avvenimenti che comunque questi progetti che fai significa che comunque ti fanno lavorare con la passione poi andremo giovedì a visitare il reparto ospedaliero della fibrosi cistica appunto ad Atri ne parleremo poi martedì prossimo e poi chiaramente avremo poi a dicembre insomma con l'arrivo del Natale insomma delle feste quindi ci ritroveremo con degli sponsor gli sponsor della prima squadra nonché gli abbonati come è doveroso e effettivamente insomma era nel nel pacchetto di inizio campionato presso l'hotel Abruzzi nella cornice dell'Abruzzi per festeggiare insieme insomma il Natale chiaramente oltre alla stampa le televisioni a tutte insomma tutte quelle persone che durante l'anno orbitano intorno a questa splendida realtà calcistica che comunque danno il loro contributo nel quotidianamente settimanalmente quindi per noi sarà una serata di festa come ci auguriamo insomma che lo sia anche per tutti gli ospiti che interverranno nella serata allora prima di chiudere visto che Amador è parte di radio Cisena Cisena sì sì ma si sono accorti appunto cioè erano hanno visto tanti romagnoli nel terro quindi no ma fa anche io voglio sottolineare anche una cosa cioè per noi è importante io se vai nel sito della della Lega no il sito ufficio della Lega oggi quando dici di la parola marketing appaiono comunque delle notizie no il binomico abbiamo fatto con il CSI cioè questo significa che comunque il terramo calcio ha fatto pure pubblicità sui bambini nella televisione mi sembra TG1 sì questo significa che comunque questa società è seguita anche a livello nazionale perché chiaramente se ritrovi il nome il tuo nome lo ritrovi sotto un sito comunque di una società come la Lega Prova voglio dire significa che comunque lavori e lavori anche bene quindi chiaramente questo non è merito del sottoscritto ma merito di tutto l'entourage bianco-rosso quindi a partire chiaramente dal Presidente al Direttore Generale all'Addetto Stampa al Segretario a tutti coloro perché io sono semplicemente un promotore di iniziative e dietro dell'intellettuale prego dell'intellettuale di questa organizzazione l'area marketing è sempre quella costola che cerca di inventare che dà l'idea poi dietro ci sono delle persone che magari non sono presenti magari qui stasera però lavorano fattivamente l'idea sulle strutture non serve ma è molto semplice dire biglietti dietro i biglietti di portare i biglietti a casa c'è chi li deve stampare che sono comunque degli organi come il Segretario piuttosto che i nostri ragazzi di Almasport quindi portarli a casa dietro c'è tanto lavoro insomma cioè non è una cosa molto importante riguardo ai consiglieri di Pescara il casino del Bonaventi terra non c'entra niente no assolutamente no non avremo pure meno male meno male ricominciamo la trasmissione se imbrochiamo un argomento come questo l'ultima partita dell'anno il Teramo la farà a Salerno Luca se non sbaglio è in diffida quindi stai attento domenica sei in diffida giusto? Mattia non è in diffida no no due munizioni due munizioni però ecco giocare a Salerno sarà per chiudere l'anno in quello stadio con quel pubblico una vetrina molto importante bella vetrina stimolante difficile ma stimolante per la legge dei grandi numeri potremmo anche vincere giù Andrea io se mi permetti era doveroso anche il ringraziamento alla società Teramo Calcio per come ieri siamo stati accolti all'interno dello stadio di Fattori all'Aquila perché effettivamente la dirigenza dal Presidente al Direttore Generale ci hanno accolto con grande ospitalità quindi veramente sono doveroso visto con l'occasione insomma giustamente anche la detta dell'addetto stampa Sorgentone insomma tenevamo pubblicamente insomma a ringraziare questa società assolutamente sì va bene siamo arrivati al termine di questo altro nostro appuntamento io ringrazio Marco Pediconi in regia Gilberto Marino se ne ha le camere ringrazio voi per la cortesa attenzione e vi lascio al saluto più bello che ci sia sì Andrea salutiamo i nostri ospiti in primis il mister Luzzi Alessio Peroni dell'area marketing Teramo Calcio i calciatori Mattia De Fabritis e Luca Righini grazie a voi per essere stati con noi grazie ai nostri telespettatori grazie a te Andrea come sempre per queste fantastiche avventure che ci regali di martedì e vi aspettiamo qui martedì prossimo alle 21 buonanotte ciao Caterina Grazie a tutti Grazie a tutti